foculo datazione sesto secolo avanti cristo provenienza chiusi i foculi o braceri fatti per essere trasportati potevano essere utilizzati come passoi contenitori oppure come scaldavivande il nostro bracere è completo di coppe piatti palette cucchiai e tavolette pronti per l'uso le dimensioni però sono molto ridotte è un oggetto simbolico forse realizzato ad imitazione di esemplari in metallo che ricrea nella tomba l'atmosfera del focolare domestico e che richiama le attività della casa anche se alcuni focoli provengono da abitati la maggior parte dei braceri in bucchero è stata rinvenuta nelle tombe all'ambito funerario si riferiscono anche i leoncini e la testa di gorgone raffigurati su questo esemplare grazie a tutti grazie a tutti